Ciao a tutti, io sono Moreno, il creatore di The Italian Coach e sono qui per aiutarti a imparare a parlare l'italiano. Stai ascoltando il primo episodio del mio podcast e questo mi rende molto felice. Lo ammetto, esistono moltissimi podcast per imparare l'italiano e ora ti starai chiedendo perché dovresti ascoltare proprio il mio. La mia unica missione è che tu possa imparare a parlare l'italiano in modo fluente. Voglio aiutarti a parlare l'italiano autentico. Se vuoi migliorare altri aspetti della lingua, come per esempio scrivere o capire le regole grammaticali, allora questo non è il podcast per te. Ma se vuoi imparare a parlare l'italiano in modo naturale e divertente, resta qui con me! Ogni episodio del podcast avrà due parti. Nella prima parte parlerò di un tema specifico come per esempio aspetti linguistici. Qui parlerò di aspetti della lingua italiana che possono essere difficili da capire perché ogni tanto qualche breve spiegazione può essere utile. Per esempio il congiuntivo. Cultura e società italiana. Quando si impara una lingua straniera è importante conoscere il modo di vivere e le abitudini della gente di quel paese. Più ne sai della cultura, più facilmente capirai le conversazioni in italiano. Vocabolario e modi di dire in italiano autentico. Anche se puoi imparare molte parole ed espressioni usate dagli italiani tramite l'ascolto e la lettura di contenuti autentici. Qui spiegherò delle espressioni specifiche usate per esempio nel business, nella tecnologia oppure durante una visita dal medico eccetera. Motivazione e consigli sull'apprendimento. Come coach non possono mancare i miei migliori consigli su come imparare l'italiano e su come restare motivati. Nella seconda parte tocca a te. Userò una tecnica chiamata domanda e risposta con la quale simuleremo una conversazione. Così potrai esercitarti a parlare l'italiano senza avere bisogno di una vera persona. Ti spiegherò esattamente come funziona nel prossimo episodio. Questa è la struttura del mio podcast e visto che ci saranno momenti in cui non riesci a capire tutto quello che dico, anche se cercherò sempre di parlare in modo chiaro, insieme ad ogni podcast avrai a disposizione la trascrizione in pdf. Oltre all'italiano parlo altre lingue e so benissimo cosa significa imparare una lingua con i metodi convenzionali. I corsi in classe tradizionali, i libri di testo, le regole di grammatica non ti aiuteranno mai a parlare in modo fluente ed autentico una lingua. Se oggi so parlare l'inglese ed il francese in modo sicuro e spontaneo è soltanto grazie ai metodi naturali. I miei principi come coach d'italiano si basano proprio su questi metodi. Ascolto e lettura di contenuti interessanti e divertenti e conversazione. Tutto in lingua autentica e posso dirti che funzionano. Perciò non vedo l'ora di aiutarti a migliorare il tuo italiano. Bene, siamo arrivati alla fine di questo primo episodio. La trascrizione la puoi trovare sul mio sito italiancoach.net Ti aspetto nel prossimo episodio. Ciao ciao!